E dunque riprendiamo la linea e ritorniamo al tema con il quale abbiamo aperto il telegiornale di questa sera e come detto questa mattina all'interno della sede della regione un bilancio a un anno dal sisma che ha colpito ferito ma evidentemente non abbattuto questo territorio regionale dell'Emilia Romagna. Allora per parlarne scegliamo due fronti che sono due punti di vista differenti, due aree geografiche ma come detto il filo conduttore è il medesimo dunque io saluto Gianni Tosi presidente di Confagricoltura Bologna e gli do il benvenuto nei nostri studi e Matteo Carletti che qui è in rappresentanza del consorzio di promozione del centro storico di Mirandola. Per cui Bologna e Mirandola noi abbiamo raccontato che molto è stato fatto, questo ha detto Vasco Errani, molto ancora c'è da fare riavvolgendo il nastro a 12 mesi fa e guardando quello che succede oggi, il vostro bilancio qual è dai vostri punti di vista? Cominciamo da Tosi. Il bilancio è sicuramente che siamo di fronte a territori che hanno saputo reagire, l'attività della regione ha dimostrato di essere vicina a tutte le aziende colpite comprese quelle agricole quindi ancorché tutta la burocrazia che si è innestata dietro a questo tipo di attività di ricostruzione abbia fatto penare però la volontà di ripartire è sempre forte nelle nostre aziende. Perché il tema è quello del denaro naturalmente, i famosi 6 miliardi ci sono, i soldi sono garantiti eccetera però molti hanno dovuto iniziare anticipandone. I soldi ci sono ma sicuramente senza volersi ripetere però le lungaggini burocratiche hanno fatto sì che per partire le varie aziende si siano dovute fare risorse utilizzando risorse proprie e quindi con una certa difficoltà anche a reperirle. Anche perché l'anno scorso abbiamo partecipato a diversi eventi dove sono stati dimostrate tutte queste difficoltà. Sicuramente non si poteva pensare in una maggiore velocità dell'ente pubblico in cui mi permetto di fare una critica visto come vediamo anche il fatto di voler iniziare un'attività nuova siamo sempre sommersi di carte nuove, richieste nuove, integrazioni eccetera. Però ripeto la volontà di ripartire è forte, i nostri territori hanno dimostrato che specialmente nel mondo agricolo non ci si può fermare perché il raccolto poi è andato avanti, le coltivazioni è andato avanti e si devono mantenere gli impegni. Carletti, uno dei temi sollevati oggi è anche quello relativo alla restituzione dell'identità dei territori con i loro centri storici, le loro chiese, le case del centro e nella ricostruzione e superamento anche magari di quelle situazioni di degrado che potevano esistere. Voi l'avete conservata la vostra identità? Ci stiamo provando, l'identità sicuramente l'abbiamo conservata ma nonostante tutti i fattori che hanno rischiato di comprometterla perché se parliamo di edifici storici, se parliamo di sedi istituzionali semplicemente, se parliamo di scuole, tutto questo patrimonio identitario, autentico è stato perso, è stato reinventato con sedi provvisorie, con la fantasia e la necessità. Insomma che impongono ovviamente scelte dolorose ma di superamento e quindi oggi sostanzialmente l'identità è l'identità dei luoghi, tanto più che grazie al fortissimo sforzo, noi l'anno scorso di questi tempi stavamo facendo una fiera, domani ricomincia la fiera edizione ovviamente 2013, non è scontato poter fare la fiera negli stessi luoghi dell'anno scorso, nel centro storico che si è stato sottratto e che grazie allo sforzo di tantissime persone oggi possiamo nuovamente utilizzare pur con le ferite che sono sotto gli occhi di tutti, cantieri aperti, edifici lesionati, però simboli identitari come il municipio centrale alla piazza, la piazza stessa e il circuito principale delle vie del centro che oggi è di nuovo fruibile, faticosamente. Quindi sarà anche una fiera di riconquista in qualche modo e testimonianza di determinazione, ci vuol dire due eventi clou? Assolutamente, noi il presupposto da cui abbiamo pensato la fiera di quest'anno è stato di vivere serenamente luoghi che per molto tempo abbiamo vissuto dolorosamente, quindi il grosso investimento è stato fatto soprattutto sugli abbellimenti urbani, su un arredo urbano che togliesse l'impressione del cantiere, sugli eventi abbiamo ricevuto una forte solidarietà per cui avremo appuntamenti importanti, ad esempio il concerto di Paolo Belli che viene a suonare a Mirandola gratuitamente, avremo il passaggio della Mille Miglia, avremo il Rio che sono un complesso molto seguito che presenterà a Mirandola l'anteprima del disco, per cui tutto sommato ancora una volta abbiamo riempito grazie alla solidarietà dei grossi vuoti che sono vuoti non solo esteriori ma anche soprattutto di appartenenza, di tranquillità. Mirandola una città per me è un titolo che la dice lunga in questo senso, ma come se non bastasse, riavvolgendo il nastro e avvicinandoci però in prossimità di questi giorni, il 3 e di questo mese una tromba d'aria è andata a sconvolgere gli stessi territori che avevano conosciuto gli effetti del terremoto. Diciamo che si è ripresentata la stessa immagine del terremoto praticamente perché dove queste trombe d'aria hanno colpito pesantemente e anche qui siamo in comune con la provincia di Modena perché se su Bologna abbiamo avuto danni a Bentivoglio, San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato a Modena è stata colpita Mirandola, Castelfranco, quindi la ripetizione dello stesso film. Siamo fiduciosi ancorché sia successa questa grave disgrazia e questo evento atmosferico che ormai ci dicono tutti i climatologici dobbiamo abituare a questi eventi estremi che si ripeteranno e saranno sempre più forti, però abbiamo visto anche qui una volontà di ripartire, una volontà della regione di attivare la misura. Confermata anche la scelta di fare rete, fare sistema in questi casi aiuta? Fare sistema in questi casi aiuta, ma diciamo che qui l'importante è che vengono attivati tutti gli strumenti che erano stati attivati in occasione del terremoto e per quanto riguarda l'agricoltura la regione ha messo a disposizione la misura 126 per contribuire alla ricostruzione delle aziende che sono state colpite e riattivare la loro attività. Che impatto ha dato anche quest'ultimo fenomeno? Purtroppo anche Mirandola è stata fortemente colpita, in particolare la frazione di San Martino Spino, che in un'area limitata ha subito danni veramente fortissimi, paradossalmente più forti del terremoto, che in quella zona si era manifestato con una forza leggermente inferiore rispetto al centro storico o altre porzioni del territorio, per cui ci siamo trovati a fronteggiare nuovamente gli stessi problemi con un'angoscia in più. Per il terremoto la gente diceva esco e perlomeno all'aperto non sono a rischio, una tromba d'aria non lascia al sicuro neanche fuori né dentro, quindi abbiamo fronteggiato anche proprio una disperazione nuova e ulteriore, maggiore rispetto al terremoto. E allora per concludere Tosi, il tema mi pare di intendere che al di là delle risorse sia quello della burocrazia, la vostra voce in questo senso deve essere ascoltata? La nostra richiesta forte che poi ormai accomuna tutti i settori economici, cioè non ce lo dobbiamo nascondere, l'Italia ormai si trova in una situazione che questa burocrazia strozza qualsiasi tipo di attività e qualsiasi tipo di ripresa, quindi è necessario che qualcuno a partire da Roma si metta di buona volontà a fare un ragionamento serio e vedere di limitare tutti questi balzelli che non fanno altro che poi peggiorare la situazione economica perché anche in condizioni di imprese che hanno voglia di investire, di intraprendere nuove attività, di svilupparsi, ci si trova a perdere degli anni senza riuscire a fare niente. Allora ricordiamo l'ultima volta dal 16 al 20 maggio Mirandola, una città per te, si possono anche adottare delle strade? Sì, abbiamo un'iniziativa Adotta una via, un'iniziativa in cui simbolicamente ciascuno dei visitatori potrà portarsi a casa un braccialetto con il nome di una via portando a casa con sé un pezzettino di Mirandola per condividere con noi questo senso di ripartenza. Grazie per la vostra testimonianza, voi naturalmente per averci seguito.